Start, 2, 1, Mystery Mission, and Liftoff! Capitamente, perché credo sia uno dei migliori simulatori di attività attualmente presenti. Il gioco non è fluidissimo perché sto registrando, non è ancora molto ottimizzato e tra l'altro con le varie patch hanno anche fatto un po' di casino perché il gioco è multiplayer, è cooperativo, cioè lo giocate con un amico o più amici, fino a 4 amici, ed è molto bello giocato in multi, ma in seguito a qualche aggiornamento il gioco crashava non all'osta ma agli amici. In pratica che cos'è? Noi abbiamo la possibilità di creare la nostra azienda e la nostra azienda può poi andare ad acquistare dei mezzi. Noi abbiamo l'azienda dove stiamo giocando io e un amico, ho le informazioni su tutta l'attività, i veicoli che possediamo, al momento ne abbiamo due, abbiamo i commenti che ci hanno lasciato gli utenti riguardo ai lavori che abbiamo fatto e poi abbiamo la possibilità qui di vedere le missioni che abbiamo e nelle mail andare ad accettarne altre. I lavori si dividono tra lavori di pulizia, quindi un po' alla house flipper, prendere la roba e buttarla via, a lavori di arredamento dove dovevamo montare i mobili, smontare i vecchi infissi, montare i nuovi, montare le porte, insomma smontare quelle vecchie, a lavori vedete di demolizione. In questo caso vi faccio vedere un po' tutti i tool che abbiamo. La punta del trapano, quindi lo svitare, tutto quello che riguarda l'avvitare in fissi, l'avvitare in ghiere, cose del genere, usate il trapano. La pala per... questo non l'ho ancora usata in realtà, o forse sì, sì, perché in questo gioco, tenete conto, potete anche costruire da zero. Vedete qui ci sono dei terreni liberi dove vi partirà la missione di costruzione, ci sarà una specie di roulotte, un piccolo container, e all'interno disegnerete su un grafico, su un foglio quadrettato, i muri, i piani, dove mettere le finestre, dove mettere le porte e a quel punto diventerà, e questo è un mix di più giochi, house flipper, in questo caso diventa building simulator, builder simulator, dove scaverete, metterete le griglie, metterete il cemento, tirerete le fondamenta, e poi inizierete con i pavimenti, con le pareti, con in questo caso qui il gesso, l'intonaco, e poi pitturerete. Qua abbiamo anche la pulizia delle finestre, la pulizia appunto per terra, quindi raccogliere i rifiuti, e prende anche un po' di genki art simulator, perché tutti i rifiuti che raccogliete, che sono questi sacchi verdi, c'è la differenziata, quindi sono varie, la plastica, il metallo, piuttosto che l'indifferenziata, buttandole all'interno di questi cestini qui, bidoni, vi butterà fuori delle casse, queste casse le potete mandare al compattatore, e il compattatore vi dà degli ulteriori punti, che potete convertire in soldi. Quindi, quando voi avrete un lavoro, in questo caso noi abbiamo la demolizione di questo edificio, noi demoliremo l'edificio, iniziando ovviamente dal soffitto. Adesso non ve lo faccio vedere tutto, ma se voi picchiate dove vi dice di picchiare, è una sorta di minigioco, ve lo abbatte più rapidamente. Quello che potrete fare in futuro è anche costruire case da zero, farle vostre, arredarle, e poi metterle in vendita, portandoci comunque un buon guadagno. Quindi questo è quello che si fa di base, probabilmente potete abbattere solo una volta che avete abbattuto tutto il piano superiore, potete iniziare l'abbattimento di quello inferiore. Non evitare problemi un po', diciamo, alla Minecraft, dove le pareti stanno super contro loro. Adesso non ve lo farò vedere tutto, però insomma, qui è assolutamente una... da dipendenza, perché poi vi mettete lì e lavorate. Quando siete in gruppo è molto bello perché il gioco vi riporta tutte le cose che servono, e voi potete andare a... con magari più furgoni o più mezzi, con gli amici, con i vostri colleghi in questo caso, a prenderli e dividervi un pochino i compiti. Allora, la mappa, io vi garantisco, è enorme. E la mappa consiste in la Città Grossa. A nord c'è l'aeroporto. E la mappa... questa è la Città Grossa, dove... che qui ci sono case da demolire, case da costruire. Ci sono vari negozi. I negozi si dividono per livello, cioè per punti di lusso. Tre, tre e mezzo, vedete, e qua quattro, cinque. Se in una casa, in una missione vi dicono che vi servono, dovete mettere dei mobili di un certo lusso, li comprerete qui o qui. Al tempo stesso dovete fare benzina. Quindi avete i distributori, avete le elettroniche, anche in questo caso con vari punti di lusso, quindi il televisore di lusso 3.5, andando poi a prendere quello più basso. Il banco dei peni, invece, andate a vendere tutte quelle cose che non sono rotte, ma sono mobili vecchi, che potete smaltire. Li date a questo negozio e ve li acquista. Abbiamo il negozio di auto, ce ne sono un paio. Questo ce n'è uno, qui ce n'è uno, qua sotto ce n'è un altro, e qua sotto ce n'è un altro ancora ben nascosto. Le auto, l'ape, classica ape car, dove trasportare, caricare più o meno materiali. Qua abbiamo una zona di costruzione di villette, insomma anche qui abbiamo fatto dei lavori. E questa è la zona iniziale, dove abbiamo la nostra base. E ora, dato che questo video vuole essere un qualcosa che non, diciamo, non è che io vi insegno a giocare, perché il gioco lo avete già visto. Tra l'altro c'è l'audio bassissimo. Aspettate che metto la destinazione in modo da arrivare in ufficio. Ok. Arriviamo tranquillamente, così facciamo anche due chiacchiere. Questo è l'interno. L'orario purtroppo è sempre lo stesso, è molto bello però da guidare. E quando siete con un amico, l'altro è seduto a fianco, quindi magari non ci sono ancora i danni. Però, anche se ci sono magari le spie del motore e quelle cose lì, ma al momento non si è mai acceso nulla, la benzina quella si finisce. Non c'è eccessivamente traffico qua in città, anche se ogni tanto qualcosina in autostrada si trova. Allora, adesso io vi sto portando la base perché, dicevo, non vi voglio insegnare a giocare, perché vi do la mia esperienza. Vi spiego quello che io ho imparato e spero che questo video vi sia utile per capire se il gioco fa per voi o meno e se rispecchia magari quelle aspettative che vi aspettate da un gioco del genere. Dal mio punto di vista è forse meno ottimizzato decisamente di un House Flipper, ma molto, ma molto più vario. Cioè, se vi è piaciuto House Flipper e volete fare qualcosina in più, lo potete fare. Tenete conto che è vero, in questi giochi non si può quasi mai fallire, ma è anche vero che in questo gioco è uno di quelli con le cose più costose da acquistare e, qualora non abbiate abbastanza soldi, potete rateizzare la qualunque, però ad ogni incasso, da ogni lavoro, vi tratteranno le rate e quindi arriverete, se vi organizzate male, ad incassare veramente pochissimo perché magari quelli che avete sono solo debiti. Dà molta soddisfazione il fatto di vedere un terreno incolto e vederci poi una casa che avete progettato voi. Quella è una delle cose più belle che vi garantisce questo titolo. Ma non solo, perché adesso stiamo andando alla base. La base è una cosa molto interessante, perché voi, in un tutorial che a noi non è ancora finito, quindi dura veramente tanto, però vi fa fare lavori anche parecchio lunghi, quindi quello è il motivo per cui il tutorial dura tanto. Siamo meno di dieci ore, però c'è sempre qualcosa da fare per poi apparirsi in futuro al gioco Sandbox, dove accettate le missioni. E la base ve la potete costruire, se ve la farò vedere, vi darà una zona, ve la fate. Probabilmente ve ne farà fare un'altra andando avanti, quindi avere due basi. Praticamente la base vi consente di... Vabbè, gli uffici credo non servano a nulla, ma c'è il magazzino dove potete andare a depositare tutte le cose, quindi potete giocare d'anticipo e dire guadagniamo tempo, compriamo già tanti mattoni e quando partiamo per un lavoro carichiamo il furgone e lo facciamo già... Per le prime fasi del lavoro abbiamo già tutto. Vedete quella casa lì è da demolire. Lì probabilmente se faremo un lavoro costruiremo una casa e quella casa rimarrà per sempre lì. Quindi molto bella sta cosa. Allora adesso stiamo arrivando in base, adesso vi faccio vedere cambiando la visuale. Praticamente qui non abbiamo ancora costruito, ma all'interno abbiamo già pulito, c'erano rifiuti ovunque, ce ne sono ancora probabilmente in giro. Praticamente qui c'è l'ufficio, ma ogni edificio che voi andate a... appunto che vedete con cui ora interagisco, sono tutte cose che io ho costruito. Praticamente vedete abbiamo l'ufficio, il garage, la macchina per comprimere, le decorazioni dell'ufficio in varie modalità che ci danno magari dei bonus, non credo, magari il caffè forse ci dà più velocità nel movimento comunque. In spazio dell'archiviazione possiamo espandere con più scaffali il nostro magazzino. Abbiamo la potenza perché abbiamo costruito un generatore che poi è upgradabile, gli si può dare anche le batterie, gli si può dare il solare, gli si può dare l'eolico, perché tutto quello che va a motore all'interno della... a elettricità, scusate, all'interno della base, ha bisogno di potenza. Quindi anche solo il cancello elettrico o nel magazzino, la serranda, ora abbiamo tutto spento, non funziona niente e quindi bisogna accendere il generatore. Abbiamo la piscina, il giardino, il campo da pallacanestro che non so cosa servono, però ecco, questo è l'ufficio dove possiamo andare a dormire. Lì ho parcheggiato l'ape che vi danno all'inizio, che si imbarca a ogni curva e praticamente l'obiettivo è quello di renderci autonomi anche dal punto di vista, che so, dei rifiuti, perché potete costruirvi la macchina compattatrice dei rifiuti, cioè compatte gene automatico, ve li compattate qua e andate a venderli direttamente. Vedete che qua abbiamo il quadro con la produzione e il quadro elettrico dove possiamo andare a accendere o spegnere, in questo caso non va. Perché? Perché abbiamo il generatore con il livello di carburante, io posso andare a prendere il tasto, lo accendo e in questo caso poi posso accendere gli uffici, accendere il garage, gli altri non ho il compressore. Posso accendervi tutti ma non ho niente, ho solo il garage, quindi... No, non ho neanche il garage, in realtà potete farvi anche la pompa di carburante. Lo spazio di archiviazione, io lo alimento, in questo caso vedete qui ho piazzato anche la macchina per comprimere i rifiuti, che al momento non credo funzioni perché non l'abbiamo alimentata, ma andando di là vi faccio vedere il magazzino dove qui abbiamo... le cose che abbiamo avanzato dai primi lavori e quindi... La cosa bella è che quando mettete giù un cantiere per la costruzione di case, vabbè qua vedete ho messo dei mattoni, la cosa bella è che qua il generatore lo dovete riempire di carburante, piazzate il proiettore, avete le multiple e questo ricorda molto Gold Rush, per un mining simulator che si chiama adesso, dove voi tirate proprio il filo e collegate la presa multipla al generatore e da qualche parte qua dovrei avere anche la betoniera portatile. E la betoniera portatile la usate, la collegate al generatore, la accendete, producete i secchi di cemento che usate poi per depositare appunto le fondamenta. E avendo acceso la corrente io posso anche fare questa cosa qui, posso chiudere la porta, credo, ma non me lo fa, ok sì, è un po' non è previsto che stia chiuso, comunque sì l'ho chiuso adesso, e qua è l'espansione, e c'è ancora tanto da costruire, adesso me l'ha preso un po' in realtà, dove va bene, posso metterlo anche automatico, ovviamente quando poi avremo il solare, l'eolico, le batterie, la lasceremo sempre accesa l'elettricità qui, ma al momento direi che non è il caso, quindi la spengo, vanno giù tutti e non produciamo più coerente e non funziona più niente. Qua dietro c'è ancora altro da costruire, però questa è la base. Questo per dirvi che è un gioco che non costa niente, perché costerà adesso 12-13 euro, l'ho comprato perché gli sviluppatori non mi hanno filato di striscio, e praticamente qua avete anche, ce ne sono due o tre qua nella base, per portare la spazzatura qui, e una volta che avete abbastanza casse, la portate qua sotto, che è qua a sud, e dovrebbe essere qua dietro, là in fondo, quel capannone lì, quella tettoia lì che sto puntando, sotto lì depositate e vi danno soldi, vi danno ticket in base a quanti rifiuti depositati di un certo tipo e vi pagano soldi. Qua dentro si può dormire, quindi passare la giornata a sei notte, perché si può lavorare giorno e notte, ma non è bello lavorare con la torcia accesa. Vedete che c'è la torcia. In questo caso io posso andare anche a potenziare i set di scaffali, posso così metto dentro anche i rifiuti che ho compattato, posso costruire una piscina che non so cosa farmene, campo da pallacanestro, anche lui non so cosa fare, e anche la stazione di carburante, quindi possiamo comprarci la benzina, magari a prezzo scontato, e farci il pieno direttamente noi qui, e poi partire. È bello quando avete magari tre o quattro amici, in realtà due o tre amici perché si gioca in quattro, e avere più furgoni, li potete personalizzare nel senso come colore, e quindi dire, ok, abbiamo questa missione, andiamo a costruire il palazzo, sappiamo già, e abbiamo nell'elenco della missione, tutti i materiali richiesti perché ce li riporta qua, si va al ferramenta, si comprano le cose, si va al negozio di mobili, si comprano le cose, ognuno poi va a carica quello che deve dal magazzino, si parte, si prendono strade diverse, si arriva tutti in cantiere, c'è chi è già arrivato e ha montato già il generatore, il faretto per vederci di notte, la betoniera, e sta già iniziando a produrre un po' di cemento, arriva quello con i mattoni, inizia a mettere i mattoni, cioè questa è la meccanica di questo gioco, spero di avervelo spiegato così a grande linea, in modo da farvi venire magari un po' voglia, ripeto, non ho nessun contatto con gli sviluppatori, è solo un gioco che a me è piaciuto, e mi piacerebbe spiegarvelo, e non semplicemente come si fa ormai online, farvi vedere me che lo gioco, ma spiegarvi un pochino quello che potete e non potete fare, e le mie impressioni che sono senz'altro buone, se siete amanti dei simulatori di vita, di professione. Fatemi sapere che cosa ne pensate di questo contract wheel, prezzo ottimo, features ottime, e attendete i vostri pareri qua sotto nei commenti. Io vi saluto, vi ringrazio, e vi rimando a un prossimo videogameplay. Alla prossima, ciao ciao!